Amo la lingerie perché è un segreto intimo. Mi fa sentire elegante, sensuale e sicura della donna che sono. Ho creato This Is Me Now, la mia prima collezione con Intimissimi, per condividere questa sensazione con tutte le donne. Abbiamo unito la creatività americana con il design italiano, mettendo tutta la passione possibile per creare un intimo unico. Intimissimi, l'arte della lingerie. Grazie.